L'apertura della scuola è garantita, è chiaro ancora in condizioni provvisorie, precarie come è necessario. Sappiamo quante scuole sono già state finanziate, oltre 50 scuole più le 10 della ricostruzione dell'Errani e quelle donate. Logico che queste arriveranno con tempi diversi, però la partenza della scuola è garantita anche perché, grazie sempre al governo, è stato permesso un doppio binario che ci permette di mantenere più classi anche nell'area interna, benché oggi qualche famiglia continui a iscrivere sulla costa, che permetterà nel percorso di rientro di poter tornare nelle scuole d'origine. Quindi una partenza rafforzata proprio per rispondere alle esigenze del sisma.